E bella a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video su GTA V Online Regà, per iniziare il video ricordo il mio profilo Instagram romanaccio-kill Andate su Instagram, mi raccomando belli miei Oggi siamo nella mia nuova creazione, Lipao Mega Rampe numero 64 Creata per il mitico Lipao Gamer Ha quasi raggiunto i 10 milioni di iscritti ragazzi E' tanta, tanta roba Speriamo, andate sul canale di Lipao, mi raccomando Aiutiamolo ad arrivare a 10 milioni di iscritti E si inizia ragazzi con questa brutta macchina E voi direte, Romana, e crea un parkour con una macchina lezza brutta che non la crei mai Infatti guarda, tutte le migliori macchine le scelgo io per i parkour Questa è la macchina della mafia russa ragazzi La macchina della mafia russa brutta Qua mi spingono, via via via, scappando Quindi vedi se stanno distruggendola Ho fatto un piccolo GP qua nel porto prima di iniziare Giusto per riscaldare un po' le mani Siamo full lobby, 16 giocatori Non so alla fine quanti ne rimarranno Perché le mie gare, a quanto pare, sono complicate Quindi non tutti i giocatori riescono a farle Quindi se siete novizi non iniziate dalle gare dell'ozione Perché sono complicate Anche se dopo un po' che ci giocate Occhio al treno Dopo un po' che ci giocate alla fine non sono così difficili Si concludono, ci vuole un po' di tempo Ma si concludono Questa c'è anche delle parti level asian Quindi Tanto Ciglialotto è morto Non chiedetemi come ha fatto a morire Perché come fai a morire Guidando la macchina Non lo so, sarà esploso In qualche modo Chi c'era dietro? Non c'è più nessuno Spariti, i fantasmi stanno Ho visto qualcuno dietro Ok Non abbiamo neanche sfriggiato Eh Leonardo, Leonardo Guarda lì che a 2000 No, 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 no Eh io guarda Leonardo e mezzo Una ragazza Via, via, via Devo cercare di arrivare Primo qua In questa parte Perché quando saranno le collisioni Ah regà Stavo dicendo Non ci saranno le collisioni Io sono manco riuscito a entrare Comunque Con calma Clean Bud Ha fatto un salto Incredibile È andato direttamente All'altra parte Gigi Noi facciamo qua la parte Del sottomarino Ok Ha cascato però Vedete Bisogna farla bene Ok Check preso Ora ci rigiriamo qua Alla costile Con R1 Saliamo sopra Sto capannone Vediamo Senza superare tutto Ok Per favore Prendiamo il check Qua Allora Sono tutti qua sotto Sono tutti Lì dove c'è quel sottomarino Fatto il parkour Perché è carina quella parte Lì mi piace Ora un po' di tetti Che non ci fanno mai male Mamma mia Mamma mia Attenzione Ce la faremo Ce la faremo a risalire Non ha molta potenza Sta macchina Però ce la fa Ce la fa Ok Un altro check preso Adesso inizia il level asian Non è tutta level asian Ma Ho messo una parte Allora qua serve Vare in corso Se no Non ci arriverete mai Ma è una ragazza Troppo indietro Allora Se non arrivano gli altri Che gusto c'è Rifacciamo Retromarchi Leo Guarda ci fai 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 Non so Non ci arriveremo mai Così Aspetta Aspetta Tocca andare Un po' in retro Guarda 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 No Ancora No Regà Sta macchina Veramente incredibile Non ce la facciamo Ok Guarda 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 Mamma mia Buggata Male Vai Veloce Allora Vai In corsa Presa Dai Levateve Vado Vediamo se ce la facciamo Oh Incredibile Ce l'abbiamo fatta Andiamo via da qua Che è diventato il posto del demonio Ok Vai così Allora Attenzione qua Mai Insieme Parcours Piccolo Parcours Allora Ci abbiamo messo anche i Paracaduti Piano Piano qua Se no ci trolliamo Ah Ok Ci siamo Allora Ora Ora inizia un piccolo Una piccola parte Levelasia Dobbiamo stare attenti a non farci beccare da sti cosi E puntualmente Li abbiamo beccati Respawniamo Che se no non riusciamo più a farlo Allora Ok qua Passiamo in mezzo ora Allora qua Tocca stare belli centrali e dritti Dobbiamo entrare là dentro Ok Mettiamo il segnale Vai 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 Ora 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 Velocità Non uscire segnale Ok Oh qua No Ok abbiamo preso il check Incredibilmente Da sotto Siamo Va bene Va benissimo così Allora parte retromarcia C'è un piccolo Tricchio col freno Da fare Così Ah Non ce l'abbiamo fatta Bisogna Bisogna Impuntarla bene Se no non ce la fai Allora Con calma Qua si stanno trollando Eh ho lasciato il gas Vediamo se ce la fa No Ho lasciato il gas Perché c'era quello in mezzo Eh i giocatori ragazzi Sono la cosa più troll Di tutto Di tutte le gare Tutte le cose Che voi Vai Ah perché Non ci arriva Attenzione Attenzione Parte Complicata Meno male che siamo invisibili Però non vedo niente Ok Ok ci siamo Ci siamo Ce l'abbiamo fatta ragazzi Con un po' di difficoltà Ora ancora level asian per noi Vai Velocità Ancora level asian Attenzione Con ostacoli Dobbiamo stare bene Attenti eh Qua ci passa per miracolo Uh Ah Abbiamo beccato il pieno Un po' Devemo stare Nel più in mezzo Vai Rifacciamo E poi ci sono anche In container Ok Siamo riusciti a schivare tutto Allora qua Dobbiamo cercare di stare più Ok così Uff Primo container è andato Fortunatamente La macchina è piccola E nei container Ci passa bene Uh Bene bene Ce l'abbiamo Respawniamo Abbiamo preso il cecco Ok Ora un po' di parkour Che male non fa Ma zuna Sali Qua guardate che bella Sta macchina coperta qua Sono tutti pezzi moddati questi Vai Un po' troll La macchina lì però Ci può stare Ecco Il mezzo elicottero Anche questo è un'altra parte Un altro oggetto Moddato Ah No 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 Però regà Si comporta bene Il veicolo questo Non è proprio Pessimo Non è pessimo Pessimo Questo veicolo Della mafia russa È brutto Perché comunque da vedere Sembra veramente Una scatoletta De tonno Hashtag Scatoletta De tonno Però È prestante Allora attenzione Guarda che è una parte Un po' complicata Vediamo se Riusciamo Ad inserire Sì Dovremmo avere anche La velocità Per fare il resto No Infatti L'ho presa male Già nel tubo L'avevo visto Chi è arrivato Mirkota Chi è Mirkota GG per Mirkota Vai Ah no Respawniamo Di un pelo Bisogna comunque Prenderla subito Bene all'inizio Del tubo Se no Non ce la fai più Vai Questa dovrebbe Essere buona Sì Perfetta Velocità Non lasciate mai Il gas Ok Non vedo nada Vai vai Velocità Boom Ok Check preso Non so se Ci fermiamo Invece sì Ottimi freni anche Della Ceburek L'auto Della mafia russa Allora Vai così Un po' in alto Il salto Oh io io Troppo Gli ho dato troppo In alto Ah Abbiamo perso velocità Abbiamo perso velocità Allora Vai con il primo Dai che ce la fai Dai che ce la fai Ceburek Vai con il secondo Buono Vai con il terzo Ottimo Vai con il Quasi Quasi l'ultimo Raga Terra bene Dai dai ci siamo E lì c'è il checkpoint Ok Ce l'abbiamo Raga Check preso Ora Guardate che spettacolo Sta parte qua Con le auto coperte Ma è bene Qua tocca andare piano Raga Qua tocca andare Oioioi Ceburek Non fare scherzi Vedete Vedete Che è un attimo Che se ci cade una ruotina giù Perza Tanto Marco Non so dove Era qua Con me Si stava trollando Nella parte di prima Raga che non è semplice Quella parte là Ok Un altro po' di parkour Che male non fa E poi c'è l'ultima parte Level Asian E poi è finita la gara Bellini Però Tocca arrivare ancora Da parte Level Asian Ho messo Un cambio wallride Con questa Da pazzi Davvero pazzi Il cambio wallride Con la Ceburek Vediamo se riusciamo a farla Beh ovviamente riusciamo Perché in prova L'ho fatta però Si sa mai Sapete che Dalla prova Quando la pubblichi Frena Dalla prova Quando la pubblichi Cambiano le cose Non so perché Ma GTA È fatto un po' male Uh vai Let's go Allora Dobbiamo cercare Di atterrare là Però c'è anche Il coso che gira Il punto No 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 Siamo salvi Se non si ribalta Di sotto Siamo salvi E beh E beh Figurati Ma figurati Ma cagnata Ragazzi Figurati se rimaneva lì Eh siamo passi Eh spero Non è il momento Perché aspettare Il coso ritorna E se ne va Dovrebbe essere ora Il momento Vediamo Bisogna calcolare Ah no Si muoverà Si muoverà Si è mosso Si è mosso Proprio nel momento Errato Bisogna cercare Di calcolare I tempi Non so se ce la facciamo Tempo che vediamo I turbi Quello si è già Si è già tolto E rimesso Vero Eh sì E l'abbiamo ribeccato Allo stesso modo Non so se è il momento Ideale Ci proviamo Vediamo Sposta Levati Ok No Ok Allora Sgommiamo un po' Non so se ci arriviamo Perché l'avevo calcolata Tutta di prima Ma adesso Stiamo beccando sempre Sto coso Maledetto Allora Proviamoci Oh Lolo Yes Ce l'abbiamo fatta Lanza una ragazza È stata veramente Un'agonia Abbiamo sempre preso Il coso Comunque Lever Asian Parte Lever Asian Si comincia Vediamo Se riusciamo Ad effettuare Il cambio Quasi alla prima Raga Incredibile Mi è scivolata All'ultimo Quasi Vai Dobbiamo cercare Di Di farlo Questo Sembra buono Oh Ma 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 Raga Avete visto Quanto Drifton Scivola Tantissimo Ce l'avevamo quasi fatta Ancora meglio Dobbiamo fare Bisogna prendere Praticamente Il cambio Perfetto Il cambio Della vita Ok Questo è perfetto Dai GG Questo è perfetto Raga E qua C'è la Mega rampa Finale Ok Spera Spawniamo Prendiamo la macchina Linda Mega rampa Mega rampa Finale Il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like Fatemi sapere nei commenti Se volete altre gare del genere Intanto cinghialotto Ha trovato un parcheggio molto molto valido Qua all'ombra Anche Da cinghialotto L'histag Cinghialotto Parcheggiati Non parcheggi mai Raga Lasciate un bel like Lasciate un bel commento E noi come sempre Ci becchiamo al prossimo video Bella raga Grazie a tutti Grdev